Nel centro storico di Castelfiorentino è stato inaugurato Cambio, il nuovo polo culturale che si apre alle arti creando sinergie e occasioni di incontro. Un progetto voluto per celebrare i 140 anni di Banca Cambiano 1884 e Ente Cambiano, che ha visto il restauro degli spazi che un tempo ospitavano un cinema in un'area multifunzionale di quattro piani dedicata alle arti e alla cultura. E finalmente si vede la luce di questo progetto ormai pensato già da cinque anni fa a cui stiamo lavorando, che era quello da una parte di recuperare un contenitore del centro città particolarmente degradato e che creava quindi problemi anche al centro della città, l'altro per proseguire quell'impegno che la Banca Cambiano nel corso di questi tanti anni, 30 anni ormai della sua vita, aveva accumulato un patrimonio di opere, di interventi sull'arte che aveva bisogno di essere sistematizzato e messo anche a fruizione della comunità. E quindi, come si dice, abbiamo unito questo bisogno e questa necessità di dare una casa a tante nostre opere, ma anche a fare un'iniziativa tesa a costruire un centro che parlasse alla città e non solo alla città, ma che parlasse alle nuove generazioni sul piano della cultura, sul piano delle arti anche innovative. Oltre alla collezione d'arte della Banca, Cambio ospiterà mostre permanenti, a partire da Banksy, la nascita di un mito che resterà in allestimento fino al 3 novembre. Qui alle spalle mie c'è un'opera che è stata scelta da curatore come l'opera che è anche in copertina, il catalogo edito dalla nostra casa editrice Sillabe, che in qualche modo vuole anche ricordarci una prospettiva nuova, una prospettiva, ci auguriamo di pace.